bene riprendiamo il lavoro di questa quarta mattinata dedicata a prospettive attuali di estetica ho il piacere di presentare il professor leonardo di staso che è professore di estetica presso l'università di napoli federico secondo già docente presso l'università di roma la sapienza e l'università di california irvine codirettore della rivista ice tema international journal con direttore di redazione della rivista estetica preprint socio della società italiana di estetica della società di teoria critica membro del direttivo della società italiana walter benjamin i suoi interessi di ricerca sono partiti dalla ricognizione di un'estetica wittgensteiniana nell'ambito della filosofia continentale per cui approfondire i legami tra la teoria musicale di schoenberg e la e le radici ebraiche della musica pantonale e dodecafonica le sue ricerche più recenti hanno coinvolto autori quali nice benjamin adorno luccac nel contesto in cui la teoria critica fornisce gli strumenti per una riflessione intorno all'arte e all'estetica moderne e i loro rapporti con la società in questo ambito si inseriscono anche le recenti ricerche su sulla figura di richard wagner il cui antisemitismo conclamato è stato analizzato in base alla sua concezione dell'arte e della società e le conseguenze che essa ha avuto nella sua idea di musica e di dramma tra le sue pubblicazioni cito il veleno del commediante arte utopia antisemitismo in richard wagner ombre corte per una 2017 estetiche differenze in wittgenstein studi per un'estetica vittgensteiniana mimesis milano 2014 musica per l'abisso per l'abisso la via di teresine un'indagine storica ed estetica 1933 1945 sempre per mimesis nel 2014 da dioniso da dioniso a sinai saggi per la saggi di filosofia della musica per albo versorio nel 2011 the paradox of existence un filosofia in estetica in the young shelling academic publisher nel 2004 a questi si aggiungono saggi e contributi sull'estetica della teoria critica dei visual studies e di estetica preparazione due volume di studi sul rapporto tra estetica e politica nel novecento io ringrazio il professor di staso per aver accettato il nostro invito la prima volta che abbiamo l'occasione di sentirlo in questa summer school e quindi lo ringraziamo per la disponibilità e per l'occasione che ci offre e gli cedo subito la parola grazie grazie del di questa presentazione grazie in particolare agli organizzatori della di questa summer school per avermi invitato a fare questa questa chiacchierata insieme e ho scelto come tema una una riflessione tra estetica e politica perché in qualche modo è la è la riflessione che mi sta tenendo occupato negli ultimi negli ultimi tempi e perché l'urgenza di questa di questa tematica perché in qualche modo ho l'impressione che in questa fase post ideologica che stiamo attraversando sia necessaria una riflessione una ricomprensione proprio del tema della politica su che cos'è il politico che cos'è la politica e credo che l'estetica che ha avuto negli ultimi decenni una una declinazione diffusa diversa rispetto a quella che erano le classiche declinazioni del passato intesa come filosofia dell'arte intesa come una disciplina che si occupava del carattere della conoscenza sensibile in rapporto alla conoscenza e alla pratica artistica bene rispetto a questa visione tradizionale l'estetica avuto uno sviluppo negli ultimi decenni in qualche modo ha preso le distanze anche non solo non del tutto da questa 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 di queste indicazioni da questa concezione tradizionale dell'estetica dicevo c'è una necessità di riflessione del politico e allora cosa c'entra un estetologo beh la il novecento ci ha insegnato e molti pensatori del novecento molti filosofi molti critici del novecento ci hanno insegnato che di fronte a fenomeni ad accadimenti storici anche a drammi storici drammi che conosciamo hanno hanno percorso sono accaduti nel novecento l'arte le arti la letteratura la musica e poi le nuove arti del novecento il cinema non sono state indifferenti cioè non sono state quel mondo quell'oltremondo soltanto quell'oltremondo di cui si è parlato nella relazione di vincenzo trione che mi spiace che si hanno dovuto andar via perché alcune delle cose che dirò si ricollegano un po in qualche maniera a quello che ha detto vincenzo trione parlavo di un'era post ideologica chiamiamola chiamiamola così per per semplificazione il nostro tempo un'era post ideologica che però mette in qualche modo anche in discussione proprio quella domanda conclusiva di vincenzo trione no se vi ricordate la domanda conclusiva vincenzo trione era quando è che la finiremo di essere uomini del novecento e cominciare finalmente ad essere uomini di questo secolo ecco io ho l'impressione che questa sia una domanda posta forse in una maniera non troppo corretta per esempio posso porre la domanda come si fa a smettere di essere uomini del novecento quando come smettere di essere uomini del novecento e per certi versi come facciamo a smettere ancora di essere uomini dell'ottocento quando ci sono ancora dei portati storici profondi penso per esempio al concetto di nazione che ancora oggi sempre più allora forse il problema non è tanto di pensare secondo cadenze scadenze storiche di questo tipo ma proprio in virtù della filosofia della storia beniaminiana la quale ci insegna quale sia quale quanto sia problematico il concetto di contemporaneità e quanto invece passato presente e futuro siano talmente intrecciati tra di loro per cui in qualche modo è vero che il presente si può capire attraverso un'analisi del passato ma anche il contrario che il nostro passato lo capiamo rivivendolo e riattraversandolo nel presente e allora se le cose stanno così non mi pare non mi pare che sia azzardato riproporre per affrontare il tema che mi sono proposto per affrontarlo nella maniera che il tempo ce lo consente naturalmente non mi sembra azzardato fare un esercizio di memoria ossia andare a pescare alcuni frammenti proprio di quel che è accaduto nel novecento che è l'epoca in cui la riflessione estetica ha incontrato decisamente il tema del rapporto diretto con la realtà sociale e allora le domande classiche dell'estetica vuoi come filosofia dell'arte vuoi come come critica come critica estetica e critica d'arte troveranno in qualche modo delle nuove declinazioni nuovo è un termine difficile molto problematico cosa è nuovo cosa si spaccia per nuovo sentivo prima appunto nell'intervento di Vincenzo Trione tutte queste novità e mi veniva in mente che alcune di esse tanto novità non sono ma sono soltanto delle diverse declinazioni di una stessa cosa che accade e si ripete la mia impressione è che noi stiamo vivendo in un'epoca soprattutto dentro la cultura che ci rappresenta e che noi rappresentiamo piuttosto monolitica la quest'era post ideologica sembra essere effettivamente l'affermazione definitiva dell'ideologia dell'ideologia vincente ci stiamo ancora e sempre dimenticando di coloro che sono vinti e in questa glorificazione magnificazione che pur rimane problematica e spesso anche piena di dissidi interni la domanda che mi sono posto e che vorrei porre oggi è e allora qual è il ruolo dell'intellettuale oggi è ampia la questione dentro la figura dell'intellettuale io ci metto il filosofo ci metto il critico ci metto l'artista il musicista l'accademico e allora che senso ha porre oggi questa domanda qual è il senso a porre la domanda sul ruolo dell'intellettuale ora più o meno cento anni fa questa domanda era una domanda all'ordine del giorno subito parlo di come è stata posta la domanda nell'intermezzo delle due guerre mondiali negli anni 20 e poi all'inizio degli anni 30 ed è interessante che proprio cento anni fa all'incirca un ampio fronte della riflessione estetica e della riflessione estetica non soltanto della riflessione politica della riflessione filosofica in generale ma proprio della riflessione estetica si muoveva nello spazio di questa domanda ora io tralascio tutte le discussioni che conosciamo benissimo e che sappiamo le discussioni intorno alla fine dell'arte in fondo le discussioni sulla fine della filosofia dell'arte le discussioni sulla fine della storia dell'arte molta dell'estetica di oggi si muove proprio dopo questa fine o presunta fine la fine dell'arte, la fine della storia dell'arte e la fine della filosofia dell'arte qual era uno degli elementi decisivi prima della fine? diamola per scontata uno degli elementi decisivi era il concetto di autonomia ora la messa in discussione del concetto di autonomia dell'opera e autonomia dell'artista e qui già io suggerisco una delle domande che vorrei pormi oggi non soltanto intorno all'opera d'arte ma intorno alla figura dell'artista una delle domande che mi sono posto stamattina anche ascoltando è come si diventa artisti? come si prende o viene riconosciuta la patente di artista e qui entra il tema del pubblico entra il tema della società che sia pubblico classicamente inteso, tradizionalmente inteso o che siano i followers che pure in qualche modo sono un pubblico è l'artista che fa un suo pubblico o è il pubblico che fa l'artista? o tutte e due? anche questa è una vecchia domanda però appunto non è affatto vecchia come domanda parlavo dell'autonomia autonomia artistica ed autonomia estetica ora la messa in discussione dell'autonomia l'autonomia dell'opera l'autonomia del concetto tradizionale di arte e anche di autonomia estetica un'autonomia estetica che sappiamo essere principalmente fondata su Kant a partire dalla sua idea del disinteresse il tema del disinteresse l'opera l'arte deve essere disinteressata per poter essere arte e arte bella bene questo concetto viene messo in discussione da filosofi come Beniamin come Adorno come su un altro versante Lukács come Bloch cioè da quella costellazione di filosofi che invece hanno ritenuto che una riflessione sull'arte sulla letteratura sulle nuove forme artistiche come il cinema come la fotografia siano e debbano essere legate a un'analisi concreta un'analisi materiale della realtà e della realtà sociale non della realtà astratta ora ha iniziato a Beniamin questa critica dell'autonomia nel momento in cui a partire dalle sue riflessioni negli anni 30 all'inizio degli anni 30 si attacca la teologia dell'arte attacca l'art pur l'art attacca l'art pur l'art perché dice che in qualche modo l'art pur l'art è una reazione dell'arte rispetto a degli sviluppi che stanno portando l'arte in tutt'altra direzione che anzi stanno portando l'arte a trasformare radicalmente il concetto di se stessa di fronte a queste trasformazioni l'arte reagisce dice Beniam lo scrive nell'esposé reagisce con una nuova e più potente dispositivo di autonomizzazione che è quello dell'art pur l'art un'arte che appunto va a finire in quell'oltremondo e rimane in quell'oltremondo senza non soltanto avere rapporti con la realtà ma senza voler avere rapporti con la realtà con la realtà sociale la realtà sociale deve adeguarsi in qualche modo adeguarsi con rispetto all'arte e alla sua spiritualizzazione al suo carico di spiritualità Beniam la chiama teologia dell'arte e poi arriva Adorno Adorno prosegue esattamente su questa linea il concetto di autonomia di opera d'arte in Adorno Adorno spesso nella vulgata viene definito il teorico dell'autonomia dell'arte quello che mantiene in qualche modo un concetto di autonomia è vero a metà ma che tipo di autonomia è quella di Adorno è un'autonomia che è fondata sul carattere ancipite dell'opera d'arte l'opera d'arte è autonoma ed è un fatto sociale ed è un fatto sociale perché si pone di traverso rispetto alla società il che significa che l'opera d'arte non è semplicemente espressione della società lo è e lo è nel suo materiale materiale storico lo è soltanto in quanto si oppone Benjamin direbbe si mette di contropelo si oppone alla realtà sociale cioè opera e si muove processualmente nella forma della resistenza quindi se da un lato abbiamo una reazione dell'arte nell'art pur l'art a fronte di questa reazione si pone il nuovo si pone in una dimensione di resistenza cioè resiste nella sua processualità e nella sua progressività cioè si ribalta si ribaltano i termini non è l'arte classica che resiste è l'avanguardia che resiste resiste al processo di reificazione dell'arte borghese spesso si dice Adorno è il filosofo dell'arte moderna si dimentica un punto e in genere lo dimenticano proprio i critici borghesi che Adorno è un feroce critico dell'arte borghese così come lo era lo è stato il suo maestro Benjamin e lo è fino nella teoria estetica cioè fino negli ultimissimi mesi proprio laddove il concetto di resistenza estetica viene continuamente ripetuto in quel testo nella critica all'autonomia borghese dell'opera d'arte e dell'arte Adorno fa una critica all'arte come autoconservazione e all'estetica come disciplina autoconservativa fa una critica al dominio alle forme di dominio e l'arte borghese si presenta come una forma di dominio il carattere supremo della artisticità dell'opera e fa una critica dunque classica è la forma classica diciamo così del marxismo alla reificazione alle forme di reificazione anche se nel corso degli anni tra Adorno e Luca ci sono stati notevolissimi scontri che conosciamo tutti quanti distanze anche piuttosto acide in alcuni momenti non dobbiamo dimenticare che l'inizio del filosofare di Adorno è a partire dagli scritti giovanili di Luca la teoria del romanzo e l'anime e le forme e dalla presa di possesso di storia e concetto di classe ma questa era una parentesi storiografica chi sono i critici di Adorno che non colgono questo elemento ancipite dell'opera e questa critica all'autonomia borghese che è una forma di critica all'art pur l'art beh sono i campioni reazionari sono i conservatori e gli autoconservatori gli amanti della piena autonomia e della astratta spiritualizzazione dell'arte il che significa che se è vero che i criptoartisti si muovono in questa direzione non ci vedo da un lato non ci vedo nessuna nessuno particolare nessun particolare scandalo tranne il fatto che evidentemente tutta sta gran novità non è se non nel mezzo tecnico inoltre voi sapete bene che nella logica nella logica di Instagram e del follower c'è anche una potente logica mercantile più follower si hanno e più si incassano soldi e questi nerd evidentemente sanno molto bene il fatto loro questi critici di Adorno sono figli dello stesso ammaliamento subito da Baudelaire nei confronti di Wagner e qui cito il passo conclusivo proprio dell'esposé oppure sono figli dell'industria culturale dell'industria culturale e politica cioè della politica culturale che vede Adorno come il fumo negli occhi che li svia dal loro incantamento voi capite che queste brevissime considerazioni ci portano dentro un problema sì storico che riguarda il rapporto tra arte ed estetica nel novecento ma anche tra estetica e letteratura e nel caso di Adorno per esempio tra estetica e musica ogni volta che mi capita di dialogare soprattutto con musicologi o filosofi della musica ma in particolare con i musicologi di Adorno nella maggior parte di loro c'è un certo risentimento tralascio naturalmente la banale osservazione che un pensiero un pensatore quale che esso sia è superato dal tempo no ora se non vogliamo fare filosofia della moda o moda della filosofia però non capisco allora i colleghi di storia della filosofia antica perché continuino a insegnare Platone e Aristotele ai nostri ragazzi insomma sembrano di una tale banalità non si è fatta perché Adorno non è più attuale tutte queste cose facendo la storia della filosofia ha bisogno e deve essere studiata con una filosofia della storia completamente diversa da questa che in realtà è semplicemente una storia delle mode filosofiche quindi chiusa questa parentesi dico quando mi trovo a dialogare con gli amici e i colleghi musicologi e mi dicono beh Adorno io noto un certo risentimento nei suoi confronti beh è facile capirlo perché gli strali di Adorno non sono per lo più contro che ne so la musica popolare i fenomeni artistici popolari cioè quelli che normalmente noi consideriamo incasellati incastrati dentro l'industria culturale ma anche i fenomeni colti dell'arte colta come dice come la chiama Adorno l'arte colta anche l'arte colta sta dentro l'industria culturale e ci sta con tutte e due le scarpe e allora eccolo lì che si arrabbiano che non è vero eccetera eccetera non la devo spiegare questa contraddizione si capisce da sé ma vorrei fare un passo indietro di qualche anno rispetto a questa tematica di Adorno cioè rispetto a delle premesse a questa tematica che sono le tematiche di rimenti per una contemporanea riflessione sull'estetica e sulla politica e sul rapporto tra l'estetica e la politica e sull'intreccio di estetica e politica e dunque non sull'intreccio di estetica e politica come due discipline astratte ma come due riflessioni nel vivo delle situazioni a un testo che mi ha colpito mi colpisce sempre ogni volta per la sua carica distruttiva ed è un testo che io immagino conosciamo bene tutti del 1934 di Walter Benjamin ed è l'autore come produttore riprendere questo testo nella nostra epoca post ideologica mi rendo conto che è un atto provocatorio di una provocazione un po' diversa leggermente diversa rispetto alla alla provocazione suscitata da benjamin nel 1934 però credo che non sia meno dirompente come provocazione leggendo l'autore come produttore del 1934 io questo è il mio punto di vista ho imparato credo a leggere anche l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica tant'è vero che io non riesco quasi più a separarli la tesi centrale di quel saggio del 34 è una una specie di è una formula che più o meno dice così scrive benjamin la tendenza letteraria è giusta politicamente in quanto la tendenza politicamente giusta include anche una tendenza letteraria sembra che dica la stessa cosa la rovesciante sì è un'argomentazione dialettica evidentemente sottolineo che la tendenza politicamente giusta include anche una tendenza letteraria scrive in quanto tale aggiunge subito dopo la tendenza letteraria giusta costituisce la qualità dell'opera per cui la tesi conclusiva diventa la giusta tendenza politica di un'opera include la sua qualità letteraria in quanto include la sua tendenza letteraria questa tesi nota conosciuta discursa continuamente è possibile soltanto se questa trattazione dialettica non considera l'opera come un oggetto isolato un oggetto rigidamente isolato Adorno direbbe autonomo e disinteressato ma questa trattazione è possibile in questi termini soltanto all'interno di rapporti sociali vivi questa è ciò che Benjamin chiama critica materialistica il saggio prosegue con una serie di critiche forti ad alcuni fenomeni del suo tempo per esempio la critica all'attivismo la critica ai routini pseudo rivoluzionari la critica alla tutti fenomeni interessanti ma che non raggiungono questo obiettivo cioè l'obiettivo innanzitutto di una critica materialistica cioè di concepire sia l'opera che l'artista dentro rapporti sociali vivi e per vivi Benjamin intende politici sociali critica poi tutti coloro che nella loro attività intellettuale e artistico letteraria riforniscono l'apparato di produzione senza cambiarlo dietro c'è Brecht sono gli anni in cui Benjamin lavora discute parla si confronta con Brecht molte delle parole contenute in questo testo sono parole brechtiani in altre parole questi progressisti e Benjamin ce l'ha con i progressisti ce l'ha con la malinconia di sinistra questi progressisti parlano di rivoluzione parlano di cambiamento ma in realtà stanno rifornendo l'apparato di produzione invece di cambiarlo stanno rifornendo proprio quello che loro pensano di criticare gli esempi sono diversi sono tanti dal reportage alla fotografia per esempio quando parla di Rengerpach di Albert Rengerpach il fotografo della Noe Sacrischkeit dice ha trasformato in oggetti di godimento godimento alla moda le stesse miserie fotografa periferie miserie umane le estetizza le rende oggetto di godimento e tale è quanti dei nostri quartieri i cosiddetti quartieri popolari spesso vengono visitati da turisti lo facciamo anche noi quando andiamo all'estero l'occhio del turista è un occhio straordinariamente interessante da analizzare poco poco fa è stato citato Boris Grois Boris Grois ha scritto un bellissimo saggio sul sul turista sul turista culturale su come su come che tipo di occhio ha il turista culturale quando noi andiamo a vedere i quartieri popolari i quartieri anche degradati delle città dei villaggi e facciamo fotografie bene mi avvio a chiudere il punto conclusivo di Benjamin di quel saggio è molto scomodo però è quello per il quale oggi e diciamo che vorrei di nuovo gettare sul tavolo della discussione come uscire fuori da quella impasse che non è l'impasse soltanto degli anni trenta scrive Benjamin che la classe borghese ha dato all'intellettuale in dote la cultura cioè un mezzo di produzione che rende l'intellettuale solidale con essa e rende la cultura solidale con l'intellettuale in virtù della sua posizione di privilegio e allora e allora Benjamin indica nel tradimento nel tradimento della propria classe una via di uscita una via di uscita dall'impasse in cui l'intellettuale l'artista il letterato si trovano nel momento in cui continuano a rifornire l'apparato di produzione invece di adattare questo apparato ai compiti della trasformazione e allora per non per non rubare altro tempo e mi scuso se ho mi sono dilungato un'estetica e un'estetica in rapporto alla politica in questo caso non può essere che un'estetica in contropelo cioè un'estetica che sia innanzitutto in grado di recuperare l'orientamento storico-sociale degli intellettuali degli artisti dei letterati e degli accademici e contemporaneamente che riesca in qualche modo a percorrere la linea di una giusta tendenza un po' come fa il salmone controcorrente mantenendosi non su una linea di neutralità di astrattezza e di disinteresse ma forse proprio coltivando quel forte interesse per la società e per gli uomini che secondo me dalla quale non si può prescindere mi ringrazio grazie grazie